Visite e consulti accessibili a tutti con gli specialisti della ASL per la prevenzione dell'obesità. In concomitanza con la giornata mondiale della lotta all'obesità, l'azienda sanitaria barese ha avviato una campagna di sensibilizzazione voluta dal Dipartimento di Prevenzione, con tre Open Day nel mese di ottobre finalizzati a promuovere stile di vita corretti e alimentazione equilibrata. L'iniziativa è organizzata dall'Ambulatorio Prevenzione Nutrizionale e Educazione Alimentare del Dipartimento di Prevenzione di Bari, che è a sede in Largo Chiurlia, nel capologo pugliese. L'obesità è un fattore di rischio importante per varie malattie croniche, quali diabete, mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. E a influire ci si è messa anche la pandemia, oltre che al lockdown. I dati ci dicono, e anche uno studio internazionale che è stato fatto, è che abbiamo preso tutti almeno 4 kg. Ma i dati più interessanti, secondo il mio parere, è che uno studio internazionale ha dimostrato che i pazienti obesi e in sovrappeso hanno avuto il 113% in più di probabilità di essere ricoverati proprio in seguito dopo aver contratto il virus. Beh, l'obesità è un grosso problema, oltre ad essere un fattore di rischio per tutte quelle che noi chiamiamo, definiamo le malattie croniche non trasmissibili. Faccio un esempio, le malattie cardiovascolari. Ricordiamo che, purtroppo, ancora oggi, le malattie cardiovascolari detengono il primato per la mortalità. Poi ricordiamo sempre, che non è una banalità, ma è qualcosa, secondo me, che va ripetuto, che il 30% dei tumori sono legati all'alimentazione non equilibrata. Cosa ci deve essere nei nostri frigoriferi e sulla nostra tavola? La verdura e la frutta, almeno 5 porzioni al giorno.